Pian Castagnaio, 2 agosto, sono iniziate le prove libere per il prossimo fallo del 18 agosto con noi Silvano Mulas che ritorna sulla miata a Pian Castagnaio dopo alcuni anni, due le tue vittorie a 2012-2014 per la Contraia di Voltaia si correva con il purosangue, sempre chissà quanto tempo fa e oggi per l'imperiario Contraia di Castello come è andata, le tue impressioni, cosa ti ha detto il cuore e l'anima ritornando su queste serre innanzitutto? Beh, tornare qua è sempre bello, è sempre emozionante sicuramente stiamo facendo un lavoro e stiamo provando dei soggetti sulla pista nuova e sul fondo nuovo la mia opinione è che hanno fatto un ottimo lavoro c'è un bel fondo, sicuramente ci avrà ancora un po' di giorni per assestarsi specialmente noi che siamo stati i primi a provarlo c'era ancora il dubbio se era fermo o no vorrà bagnarti un po' di più sicuramente perché quando è asciutto tendono ad andare un po' più giù però è regolarissimo e non ti dà nessuna preoccupazione Qual è stata la tua stagione? Ha un attimo di fermo però torni da protagonista in un palio come questo La mia stagione è stata abbastanza positiva abbiamo mancato il derby per poco però sai, ti batti un cavallo favorito che va forte c'è sempre il rammarico ma delle volte non ci puoi fare niente poi sono riuscito a fare secondo nelle Oxfro una cavalla traniera quindi pur avendo fatto poche corse è stata una stagione abbastanza positiva c'è un contratto con una scuderia che è una delle migliori che c'è in Italia quindi devo solo dire grazie a loro e ora abbiamo preso un periodo di pausa dall'ippodromo per dedicarci ai pali che saranno ora c'è Fermo e Pian Castagnaio e poi ci sarà Stila prima domenica di settembre Fermo è un palio che tu hai già vinto se ricordo bene il 2015 vorrei ricordare alcune tue vittorie Pian Castagnaio, Legnano 2012 2009, doppia vittoria Castiglione Fiorentino 2012 Fuscecchio nel 2008 Silvano, quando ti rivedremo? Sì, dovrete decidere con la contrada Te oggi hai fatto un ottimo lavoro con tutti e tre i cavalli quindi lasceremo un po' di tempo per riprendersi un attimino e poi magari settimana prossima si può fare un'altra provetta Grazie Silvano Grazie a voi E poi ritorno al Pian Castagnaio Grazie